Non mi fermerai, Karoda! Si prende gioco di me. Non si prende gioco di me. Ti ho trovato! Mi hai chiamato! Perché?! Perché? Sì! Cosa! Sì! L'UITOF! Dov'è, indovinate! Siamo arrivati! Siamo arrivati! Grazie a tutti. 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 a tutti. ho detto... Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. perché... perché... a tutti. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ......